Sì, intanto grazie a tutti, anche da parte mia, non avete quasi mai sentito la mia voce, però penso che i confronti ci sono sempre stati e spero di essere stati avuti per il vostro lavoro, sempre in maniera corretta nei vostri confronti e nella mia società. Volevo ringraziare pubblicamente il Presidente che mi ha dato questa grande possibilità, questo grande allenatore, uno staff fantastico, i medici, i fisioterapisti, coloro che sono dietro le quinte, i magazzinieri, quelli della sicurezza, io penso che raggiungere certi obiettivi penso che sia veramente merito di tutti. Grazie a tutti.